Da centrodestra, a destra tra Berlato, è più a destra. Sì, è la mia sinistra però. No, mi sembra tutto totalmente antistorico, nel senso che parlare ancora adesso di fascismo e comunismo mi fa un po' sinceramente sorridere e ho visto, parlo di Padova anche quando io ero sindaco, invece molta violenza da parte dei centri sociali più che di altre formazioni, insomma, che per carità magari manifestano, ma violente fondamentalmente non sono, a parte magari qualche episodio di questi giorni. Ho visto invece molta violenza da sempre da parte di alcuni invece raggruppamenti di estrema sinistra che ricordiamo i fatti dello scorso anno, tre poliziotti feriti con lancio di bombe Molotov proprio in centro a Padova, sembrava essere tornati indietro di vent'anni. Io penso che la gente proprio non gli interessi assolutamente nulla, tanto che anche queste elezioni dimostreranno che la gente non fa più considerazioni destra, sinistra, magari guarda chi sono i candidati, cerca magari all'interno, cercherà all'interno dell'Ista e magari qualche nome per... è completamente disinteressata, ma anche perché io penso che sia proprio antistorico, e trovo antistorico, è quasi una marchetta politica a una piccola parte che è minoritaria, fare provvedimenti come questi. Cioè che senso ha? Cioè un sindaco che dice, o come a Padova, vietate le sale alle formazioni che richiamano il fascismo. Ma allora perché tu l'anno scorso hai dato la sala, una sala comunale a Padova, il sindaco Giordani, l'ha data a una formazione invece di estrema sinistra che proprio tre giorni prima aveva lanciato le Molotov contro i poliziotti, erano feriti. Cioè io queste cose le metto sullo stesso piano. Alessandri, lei come la dice? La violenza è violenza.